Sì, sì, vabbè, sono arrivato ieri mattina, quindi ho fatto la rifinitura con i ragazzi. Oggi è la partita e sono soddisfatto, sono contentissimo. Ho detto prima, un'ottima squadra che ha un'idea di calcio ben precisa, che gioca con un ritmo importante. Ho detto, sarà difficile, però cercheremo di fare più punti possibili. Quello che abbiamo fatto oggi, giocare con grande intensità, con grande ritmo, con un'idea e portare a casa più punti possibili. Sì, ora faremo tantissime partite nel mese di febbraio, come penso sette siano, quindi abbiamo l'opportunità di giocare tutti e dovremo dare il massimo tutti insieme per arrivare a fare veramente tanti punti. Alla mia famiglia, alla mia ragazza, a tutti quelli che mi vogliono bene.